Io penso che quest'anno noi tutti insieme, ciascuno col suo pezzetto e tutti insieme dentro sbilanciamoci, ci dobbiamo occupare molto di più di trasformare la cultura e di fare in modo che le nostre approfondite analisi vengano tradotte in parole semplici da comunicare e non so cosa perché purtroppo noi su questo nodo non abbiamo ancora riflettuto abbastanza.